Non ci sta Mario Oliverio a ritrovarsi indagato nell'inchiesta Passepartout coordinata dalla procura di Catanzaro e che riguarda alcuni presunti accordi politici su appalti pubblici. Non sono per nulla impensierito della mia persona. Dimostrerò anche in questa vicenda la mia assoluta estraneità ai fatti contestati. Tra l'altro mi si contestano fatti che sono riconducibili all'esperienza precedente alla mia guida della Regione. Per esempio la metropolitana Cosenza-Rende è stata appaltata nel settembre del 2014. Io sono arrivato a guidare la Regione a dicembre del 2014. Così come altri fatti che sono riconducibili ad un'attività normale di attività amministrativa, politico-amministrativa. E quindi è appunto richiedente un impegno, una responsabilità da parte di chi dirige un ente come la Regione. Cosa dovrebbe fare un Presidente di Regione se non affrontare i problemi? Sono quindi dal punto di vista personale assolutamente tranquillo. Rivendico piuttosto una azione tesa a bonificare la vita della Regione. Perché nella nostra esperienza di governo c'è stata una bussola. Quella della legalità e della bonifica di un ente, la Regione, e di tutto il sistema satellitare che ha ruotato intorno alla Regione che ha prodotto spesso illegalità, che ha prodotto malaffare spesso. E noi abbiamo messo le mani in pasta per bonificare, per affermare legalità, per affermare regole, per combattere la discrezionalità e le clientele. Non nego quindi una profonda amarezza per quanto sta avvenendo. Il mondo si rovescia. E naturalmente mi interrogo perché il mondo si presenta in modo rovesciato. Questo non ci farà demordere. Combatterò fino in fondo. Perché come è avvenuto in altre circostanze, per altre vicende, c'è fiducia nella giustizia, c'è un giudice che farà emergere la verità, che dirà la verità qual è, appunto. E quindi da questo punto di vista non c'è un problema di impensierimento per la mia persona. Possono stare tranquilli, l'ho detto già in un'altra occasione, i calabresi, il loro Presidente è una persona onesta, che serve il bene comune. E naturalmente sono preoccupato per l'immagine che si proietta dalla Calabria all'esterno e tra gli stessi calabresi. Non si fa un bene alla Calabria sollevando polveroni. Non si fa un bene alla Calabria appunto non vedendo con approfondimento quella che è la verità. Noi siamo qui, ci difenderemo nel processo, combatteremo perché la verità si affermi e sono sicuro che anche in questa occasione si affermerà.